Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere il dispositivo antiabbandono. In Italia a fine di decembri è uscita la legge che renderà obbligatorio l'utilizzo di sistemi studiati per evitare l'abbandono accidentale in auto da parte di tutti i conducenti che trasportano bambini fino a 4 anni. Kiko Baby Care, questo è il nostro dispositivo antiabbandono che oggi vi lo faccio vedere. Andiamo a vedere cosa c'è dentro, come funziona, come registrarsi e come connettere il dispositivo al cellulare. Allora, dentro la scatola c'è il manuale con tutte le istruzioni e proprio il nostro dispositivo, un dispositivo scolino che si attacca sul seggiolino, sulla cintura di sicurezza del seggiolino. Qua dentro la scatola c'è questo codice QR con il quale si attiva l'applicazione. La scatola non la dobbiamo perdere. Una volta chiuso il dispositivo fa un po' di suoni che significa che è connesso e funzionante. Allora, andiamo a scaricare l'applicazione dall'App Store o da Google Play. Una volta scaricata l'applicazione, premiamo la registrazione. e di là dobbiamo mettere il nostro email, password, nome e cognome, il paese e il numero di telefono. Dopo, quando abbiamo fatto tutti questi passi, premiamo avanti. Accettiamo tutti i termini e condizioni, premiamo avanti. Dopo, la privacy. Io ho messo che non consento perché non voglio che mi arrivano dopo le mail e gli altri messaggi da parte di loro. Dopo questo, potiamo entrare sul nostro account e dalle applicazioni Babycare. Mettiamo l'email, password e accendi. Prima cosa che mi esce è da mettere tre numeri di emergenza. In caso che siamo allontanati dal nostro seggiolino, siamo allontanati dal nostro dispositivo e entro 40 secondi non abbiamo risposto, niente, non abbiamo fatto stop. Queste applicazioni mandano dei messaggi a questi tre numeri che noi abbiamo messo in numeri di urgenza. Allora, mettiamo avanti. Dopo, dobbiamo scanare quel codice dalla scatolina. Ok. Numero... Ho fatto tutto, si è connesso. Allora, qui... Io ce l'avevo una piccola problema. Non riuscivo a connettere questo dispositivo al mio cellulare. Ho provato in tanti modi a chiudere il bluetooth, a aprire il bluetooth. L'applicazione mi diceva sempre di attivare il bluetooth perché... Pensavo che non è attivo. Alla fine, sono andato in impostazioni. E in impostazioni ho trovato il bluetooth che era spento. L'ho aperto, sono andato di nuovo in applicazione, ho scannato di nuovo il codice, barquare codice. E il dispositivo si è connesso subito. Qua ho messo il dato di nascita del bambino, il nome del bambino. Il dispositivo è quasi pronto da utilizzare. Questo dispositivo ha 15 messaggi gratuiti. Tipo se noi non abbiamo premiato il pulsante stop quando siamo allontanati dal nostro dispositivo con il telefono. Questo dispositivo, l'applicazione manda subito dei messaggi ai nostri numeri di emergenza. Questi messaggi sono limitati. Sono 15 che sono free. Dopo sono gratis. Dopo vengono altri 15 messaggi a un prezzo di 3,49 euro. Adesso proviamo di sconnettersi a questo dispositivo e proviamo di allontanarsi il più possibile. Vediamo che rumore fa. Allora, questo è stato il nostro suono che lo fa. Qua ci sono altri tipi di suoni, esempio Io l'ho imposto questo perché è uno che lo sento. Allora, il nostro dispositivo funziona bene. Si connette subito dal cellulare. Mentre da dire, è un dispositivo economico buono. Grazie a tutti, ciao.